Allora, uomini, voi conducete una vita sicura di voi? Tutta questa sicumera. Come diceva il grande Dustin Hoffman della giuria con l'erogante di Gene Ekman, quella proterbia, io sono un tipo che si cura, che si trascura, che è scuro, che va oscurato, più oscurantisti, di questo siete sicuri? Sì, basta con quello di Jackie Phoenix, io sono Joker, mi hanno plagiato l'idea fra l'altro. Epicuro, lettera sulla felicità. Un pensiero per la vita, solo per la vita, un filosofo veramente amico che da ventitré secoli non cessa di dirci, ma un cesso, questo filosofo, che non può esistere autentica felicità senza il piacere. Prima il dovere, poi il piacere. Altrimenti scatteranno delle rabbie, le persone si infervoreranno e ci vorrà un pacere e se prendono fuoco anche un bracere. Un pensiero che, contrariamente a tanti altri, non ha mai fatto e non può fare male a nessuno, che invita ad amare se stessi e soprattutto se stesi, completamente anichiliti, a rispettarsi l'azione primaria per gli uomini, la Guinness dei primati, no, che sono come un primate, per non danneggiare i nostri simili. Trovate delle similitudini, delle analogie, qualcosa di analogo, come diceva Mario Breghe, in un sacco bello, problematica, problematica, anacolo, 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 anacolo di che? Allora, voglio compiere qui delle imitazioni. Da circa 10 anni, 15 anni a questa parte, un personaggio pittoresco, folcoloristico, diciamo, si scaglia in maniera veemente, veementemente. Contro Michael Bay, benvenuti in via 185 a Livono, anche se questo sembra più un fioretino, sì, sono il mostro, sono Johnny Stecchino, un po' come Roberto Benigni. E che fine ha fatto? Maggirà un altro film, lascia il colore, Sofia Lohr, e the winner is, and the Oscar goes to Roberto! Sì, ha avuto un culo pazzesco, sì, era una donna dotata di un ottimo lato B, Sofia, eh. E anziché andare a vedere il pesce, lì a Napoli? Questa parte europea? Ha vinto anche l'Oscar. La social, poche chiacchiere. E invece, Mr. Marr, ho visto l'ultimo capolavoro di Ridley Scott, ho visto il capolavoro dell'AssDouble. Finalmente, con un po' di ritardo, sono andato al Cino a vedere questo film, che molti di voi so che hanno apprezzato, un fallo al massimo, senza prezzo, tu mi disprezzi. Sono andato con una donna molto particolare, speciale, mia madre Barbara. Così vuol dire questo film, perfetto in tutto, tutto a posto giusto, cioè con Blenderi Triscotti, che ha 80 anni, passa, mazza. Ho visto anche l'ultimo video di Paolo Sorrentino, su cui, onestamente, avevo detto molte stronzate, riguardo la grande bellezza di Great Beauty, però mi sono ricreduto, perché, per questo film, di Andock God, veramente meraviglioso. Il mio hater è un tipo, si sa, di Bologna. Tal Decme, lui lì, se i suoi genitori, invece, che permettergli di fare la vita coglioni del coniglione e del piaccione, gli avessero dato due scopacioni, due cefone, vedrà il marpione come sarebbe svegliato. Volpone! Ma chiediamo a Silvio Berlusconi cosa ne pensa di Stefano Falotti. Stefano Falotti chi è, scusi? Io non conosco, non ha mai lavorato per me, anzi, questo qui, da quello che mi risulta qua, da quello che sto leggendo, non ha mai fatto un cazzo di vita sua. Mi stiamo scherzando? E la vergogna dell'Italia. Cos'è fa il bar zeletiere? E basta con questo motto retorico, libertà, grittà, fraternità. Deve andare a lavorare. aziendalisti, fancazzisti, capitalisti, comunisti. Ma di mio, sono i taraghi delirio, spesso delirio, non valgo una lira. Benvenuti nel film incarnato qui da me. E vuoi che Nings risvegli? Sì. Ah, io fui internato, ringhiuso, recluso, deluso, deluso, sì. Qui voglio essere anche un po' come Carla Verdona da Tempidorsa, signore. Oddio, oddio. Diciamo che spesso sono al verde, sì. Anche verde di rabbia, come l'incredibile Hulk. Sì, sì, indubbiamente. Un uomo della sinistra, che però ce l'ha contro Matteo Renzi, non si capisce a quale schieramento appartengo, o sia appartenuto ad obiettare in merito alle sue dichiarazioni, reiterate, questo qua che sta con le gambecche a Valhet. Allora, partiamo da questo presupposto. Intanto gli cresci il naso. Pinocchio, Matteo. Meglio il Barrezzo, questo. Renzi. Poi c'è Palazzo Re Enzo, che è qualcosa di diverso. Il cugino, in secondo grado, di nome all'anagrafe fa innocenzo. Abbreviati in Enzo. Allora, l'Italia è una repubblica democratica fondata sulla... Ora, capisco che il re di cittadinanza, un sussidio che comunque il fallotico non ha ricevuto, è stato importante per tamponare la situazione riguardante un periodo abbastanza amifasto, brutto. Non parlo proprio così. Allora, diciamo che il re di cittadinanza è stato importante per quel periodo. Perché molte persone si sono trovate in una situazione imbarazzante. Però che valori trasmettiamo noi a questa Italia? I valori di me? Mi lascio crescere la panza. Che sto così? Che cosa diranno? I loro figli semmai li avranno. No? E lei cosa ne pensa, il giornalista sullo sgabello? Mostri, dica quello che deve dire. Non mostri soltanto le cosce. Le cose stanno, sì. Quindi, è da circa dieci minuti che guardo, sì, qui, ecco, bianco e nero qua, il pulviscolo, sì, una bella lavata, mie lavativi, su fotografia slavata di un uomo che quando vuole sa prendervi per il culo in maniera bestiale. Lo so, sono una bestolina, una peste, sono pestifero, sono pestilenziale. I miei haters lo ricevono sempre in anale perché non sono aggiornati. Riguardo i falli, loro ho ricevuti, in cui postano i fatti, occorsi, del pronto soccorso, e al mio capezzale, accorsero, delle donne, è beca pezzo, non lo so. Non mi raccapezzo più. Ci vuole una pezza, che pezzente. Io puzzo, sono pazzo, pezzo, pizzo. E la pizza? Le è piaciuto, licori e spizza, meglio le quattro stagioni, no? Pazzo, pezzo, pizzo, pozzo, puzzo. E tu cadrai, nel pozzo, nella pozzaghera. Perché parli a Bummer? No? Guarda che, quando voglio io, sono molto forte, perché è bel tempo fuori. Cosa fate? In casa. È azzurro, pomeriggio? È troppo azzurro. È lungo? Beh, sì. Perché, diciamoci le cose che mi stanno, io sono il re degli ignoranti, Adriano. Però Claudio Amori, che all'epoca, era una bella figa, per venire con me, i miei uomini come Bingo Bongo, i miei mongoloi di merda, sui lui, io non smito, mongoloi di merda, come dico la bulagna, e dicevamo che avevo delle qualità nascoste, oltre a una voce straordinaria. Ma chiediamo ad Arrigo Sacchi, c'è il film Cule de Sacchi, anche il modo di dire, e il culo di Sacchi, sì, comunque persi in mondiale, bagliarono nei rigori. Cosa ne pensa lei, Arrigo Sacchi, di questo sacco di merda? Cosa fa tutto il giorno, qui si svuota la scuota le sacche? Fanotico è, Fanotico è, il nostro è di Mirio, il Stavoni Mio, è il cinema di Michael Bay più bello, di ciò che certi cazzoli dicono. Voglio parlare di The Rock, non ha accreditato, anche Aaron Sorkin, come sceneggiatore, sceneggiatore di The Social Network, regista del processo di Chicago 7, di Bing de Ricciardos, io ho letto il libro Bing Fling, i Fleastons, sono un nome primitivo, Bing Flynn, Bing John Malkovich, Sì lo so, vorreste entrare nella mia testa per 15 minuti, 15 minuti giusti? Strange this, strange this, nanni moretti, i miei nanni, e mai zico viaggiato? La vedi quella filippina laggiù, la vedi? questa celebrazione di Silvio Orlando, Silvio Orlando sarebbe un attore, è un attore, quello fa, ricordo quando annunciò il premio Champagne Coppa Volpi, non mi ricordo se per Harle Borley, bugie, baci, babbole, bastardo, ricordatevi della traduzione di quel film, fatti, strafatti e strafiche, tu fatti i falli, i fatti, cioè dicevo, o per 21 grams, c'è le 100 in hour, la Coppa Volpi, ma somebody, ecco, mi sembra un venditore da mercato ortofrutticolo, come quello che ce l'ha con Michael Bay, e come una scicolora, comprate i libri del falotico, leggete lettera sulla felicità, perché come diceva la grande Sofia, ehi, accattataville! Ciao!